Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Spellmaster The Saga, un gioco che non costa poco perché su Steam lo trovate a 20€ e 99€, ed è un gioco che mi ricorda un pochino le creazioni Piranha Bytes, è un gioco di ruolo in terza persona, ci si basa sulla magia, lo voglio provare insieme a voi così per trarre le conclusioni ai primi minuti di gioco, un check veloce alla risoluzione, alla grafica che andiamo a giocare a AI, con l'anti-aliasing a livello alto, l'HDR non ce l'ho, quindi applichiamo Vertical Sync e andiamo a provarlo, lo giocheremo con la tastiera, vediamo un attimino se funziona tutto bene, il gioco è completamente in inglese purtop, poi ha una valutazione naturalmente nella media su Steam, graficamente sembra anche carino per quanto non dia un'idea di fluidità, un'esplosione un po' così, ho la mia testa, cos'è successo? Cos'è questa sfera? Dove sono? Dove sono tutti i miei amici? Sono tutti bruciati o no? Devo tornare all'Accademia. È un gioco interessante perché c'è una novità rispetto a quello che può essere una creazione Piranha Bytes, è che andremo a costruire l'Accademia di Magia, cioè daremo i compiti per lavorare, per costruire l'Accademia. Hai raccolto l'arma corpo a corpo, una staffa magica. Puoi anche interagire con il resto degli item, tipo vestiti, incantesimi, pozioni e cibo. Puoi equipaggiare armi e vestiti che hai nell'inventario. Va bene, allora, premi I per aprire l'inventario. Ok, abbiamo la staffa, dovrei tecnicamente trascinarla, lo click destro, no, la butto qui, doppio click, ok. E qua abbiamo la mela, juicy apple, una mela succosa. Andiamo un attimino, il movimento sembra quello tipico dei Piranha Bytes, ricordiamo che però questo è un titolo indie. Allora, esploriamo un attimino, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Il viaggio ti porterà in contatto con molti diversi personaggi con cui tu puoi comunicare. Avrai amici, avrai nemici, avrai persone a cui non fregherà nulla di te. Alcuni dei residenti di Allion potrebbero avere compiti per te. Guadagna, diciamo, premi di valore, aumenta la tua fedeltà locale per imparare nuove skill e completare i loro compiti. Allora, tu passi, qua sotto c'è scritto, tu passi in una statua antica e noti che inizia a scintillare, insomma, a illuminarsi. Una piccola voce, prenatal, non so cos'è. Continua, non mollare uomo mortale. Il tuo viaggio finisce qui. Che cos'è? Mi conosci? Cosa succede qui? Dove sono? Dove sono tutti i miei amici morti? Che è successo? C'è qualcosa che tu possiedi che non ti appartiene. Torna alla sfera, al guardiano o muori. Non ho idea di che cosa è successo. Ero nella stanza del portale parlando ai miei amici e qualcosa è successo. Mi sono svegliato e tutti i miei amici erano tutti morti. Che è successo? Sei tu quello che li ha uccisi? Un'esplosione sul portale ha reclamato le loro vite. Dovresti essere morto anche tu. Sembra che tu abbia controllato la sfera, ma è impossibile. Devo tornare all'accademia. Dai, sbrigati, ho bisogno del tuo aiuto. Ridarò la sfera a quello che gli appartiene. Dovesti andare al villaggio sotto la montagna. Guarda, cerca il mago e dagli la sfera. Ok. Andrò da lui immediatamente. Non dovresti correre. Queste terre sono difficili. Non dureresti un giorno qui. Voglio essere sicuro che tu abbia abbastanza forza. Preparati a combattere. Un combattimento. Ok. Ci sono molti nemici in Allion che sono pronti ad attaccarti in ogni momento. Lascia che ti prepari. Lascia che ti mostri quanto che sei conto. Insomma, combatti il mio servo e ti dirò cosa fare. Non ti attaccherà fino a quando non glielo dirò. Prendi la staffa. Ok. Con l'R key. Ci sono due tipi di attacco. Light and strong. Il light attack è col click sinistro. Quello pesante è con il tasto destro. Ma richiede più energia. Con lo spazio facciamo il... Una serie di attacco ha più effetto. Premi. Ah, ci sono le spell. Uno, due, tre, quattro. Ok. Performa una combinazione di attacco. Uno. Ok. Uno, due. Ok. Sì, richiede l'energia indicata dalla barra blu. Ok. Adesso voglio provare l'altro incantesimo. Ok. Combinazione di attacco e spell. Quindi praticamente devo attaccarlo e poi lanciare questo. Ok. Abbiamo fatto una combinazione di attacchi. Se non fai pratica di una serie di attacchi, sarai distrutto. No. Il film non è pratica di una serie di attacchi. Ok. Sì, vabbè. Farai esperienza. Un danno melee può essere bloccato senza prendere danno. Può essere parato. Ok. Ok. Preparati. Tieni per tutto il tasto verso del mouse. Ok. Praticamente non prendiamo danno se pariamo. Block. Block the attack. Ah, ok. Il pari è premere una volta sola nel momento in cui attacca. Vediamo se le mie basi di souls mi aiutano. No. Perché ci vuole un attimino. Ok, la parata. Ok, adesso ho parato l'attacco. Quando una creatura ti attacca, con clave o non puoi bloccare l'attacco. Close. No, quando ti morde con denti o fauci, puoi schivare. Ok. Fai un roll. Allora, jump. Ok. Back più space. Ok. Back più sinistro del mouse per il calcio. Ok. Space to jump back. Ok, perfetto. Quindi indietro più lo spazio dal calcio. Blocca e vadi. Ok. Premi R per finire la battaglia. Perfetto. Abbiamo imparato le basi del combattimento. Sembra abbastanza tecnico, devo dire. Questo è il mondo. Capitolo 1. Homecoming. Sarebbe bello se lo traducessero oggi. Giusto per... Immagino comunque sia piuttosto di nicchia. Il gioco, in realtà, mi sono dimenticato di un piccolo particolare. Il gioco, e qua lo chiarisco, non viene dato in early access. Ma in realtà non è finito. Il gioco è in beta. Quindi non ha tutti i capitoli. Uscirà nell'arco di quest'anno. Allora. Ma scusate, il mouse è andato... Ok. Qua ci sono... Sì, con le frecce si va a sfogliare. Si va a leggere. Esc close. Ok. Poi abbiamo, col click sinistro, un vino economico, della carne e del pane. Ok. Abbiamo lootato tutto. Non c'è altro da prendere. Forse c'è open. Assoiled Note. Non lo leggiamo. Ce lo aggiunge nelle note. Ma non andiamo a leggerlo. Perché l'importante adesso è andare a esplorare un pochino il gioco. La legnosità è la stessa di Pirani e Bites. E non un pochino peggio. Però è un indie. Cioè, niente di... Allora, allora, allora. Che cosa stai per fare adesso? Chi c'è qui? Mostra la tua faccia. Rispondi alla domanda, mortale. Mortale? Chi sei tu? Esci dalla mia testa. Sono il guardiano del gate. Del cancello. Il guardiano, insomma. Non ho un nome. È il mio lavoro di proteggere il portale ed essere attaccato a una sfera in cui sono inestercabilmente collegato. È come comunichiamo. Posso vederti? Sei tu un fantasma? È la mia proiezione. Prende tutta la mia forza per salvarti dall'esplosione. Ok. Che cosa vuoi da me? Mi ha salvato lui? Non è chiaro come tu hai preso la sfera, ma tu l'hai fatto. È impossibile. Non è più protetto. La tua miserabile accademia brucerà. Che cosa brucerà? Di cosa stai parlando? Tu, pazzo, patetico. Sai quante parole sono connessi? Quanti mondi sono connessi in questi portali? Quante pie anime passeranno attraverso il portale a mangiare e mangieranno te la tua famiglia? Io capisco. Ok, devo trovare un mago, farlo velocemente e non farmi perdere tempo. J per vedere gli obiettivi. Perfetto. Allora, tra l'altro, questo è le skills con la Q. Si possono andare a prendere con gli istruttori le varie skill, che non so cosa siano. Butchering, quindi la possibilità di macellare in tre livelli. La cartografia in tre livelli. L'erbalismo, il mining, l'alchimia, le armi a due mani, le armi a una mano, le staffe, la percezione, quindi trovare segreti e trappole. Antiche lingue, che ti permettono di leggere antiche pergamene e tavole. Combat magico melee, quindi corpo a corpo magico, mai vista. E il combattimento col grimorio. Perfetto. Ok, possiamo attaccare. Ok, cliccando adesso mi fa fare l'attacco. Un giovane ratto. Posso dargli un calcio? Ecco, come diceva, la parata non funzionerà su questi animali che attaccano con le fauci. Beh, ma giustamente se io attaccassi con l'uno, lo ucciderei subito, infatti. Chi è questo? Questo è stato ucciso, non so chi. Ma non si può attaccare sto tizio. Vediamo un attimo, perché il save game potrebbe essere una saggia idea. Vediamo se me l'ha salvato. Sì, yes. Vediamo. Questo è il mago? Questo è... Ascolta, ti è compasso qualcosa qua? Cioè, in tutta questa rovina c'è sto tizio qui che ha una bancarella. No, è solo qui. Ok. Questo è uno straniero. Che cavolo fai qui? Chi diavolo sei? Non capisco come sono arrivato qui. C'è un portale qua sopra. Come un scherzo. Vedo. Mi dice se è stato Greg. Non ho visto nessuno. Sei così intelligente. Sarai bravo col piccone. È quello di cui abbiamo bisogno. Attori come te diventano schiavi eccellenti. Allora, potrei con forza 2 dargli questa risposta. Potrei picchiarti il mio bastone sul culo. Non vado da nessuna parte con te. Ti manderò all'altro mondo. Ok. Scusi, ma perché non mi tira fuori? Ok. Allora, facciamo così. Iniziamo subito con... No. Non ho abbastanza mana, mannaggia. Non riesco a picchiarlo. Gli do un calcio. Lo picchio. Gli carico il colpo. Ok. Adesso gli do un'altra ammazzata. Gli do un altro calcio. Carina la cosa. Cioè, legnosa sì. Però mi sono trovato più a mio agio con lui che con il ratto. Ok, ho guadagnato esperienza. Perfetto. Adesso fammi vedere che cosa avevi qui. Non mi dà nulla. Assolutamente nulla. Quindi niente, andiamo avanti. Devo trovare il villaggio. Ah, aspettate un po'. C'è qualcosa qui che probabilmente... Spazio climb up. Eh, ma non me lo fa. Perché? Devo premere in avanti? Questa non è proprio bellissima come cosa? No. Devo premere proprio velocemente, allora. No. Aspetta, metti lì all'arma però, prima. Ok. Ok, sì, infatti, senza arma non... Ok, sì, qua è l'apoteosi della legnosità, ma... Ci sta, ricordo ancora, è un indie. Wooden Chest. Light in style. Il fulmine. Richiede intelletto 3. L'ho già preso. Sì, perfetto. Ok, abbiamo preso un incantesimo. Diamo un'occhiata a quello che è il mondo. Cercavo una mappa, ma in realtà non ha senso, perché se esiste la skill cartography... Non credo per ci sia una mappa molto dettagliata. Qua c'è qualche residuo di ossa. Cosa devo fare con te? Darti da mangiare ai ratti? O lasciarti andare? Bene, sei libera di andare. Vedo come. Adesso. Io non voglio parlare a sto tizio perché gli voglio dire due cose. Sicuramente un bel save perché... Sicuramente un bel save perché... Voglio sovrascrivere. Mettile via la tua arma, ok? Qua ci sono dei banditi. Parla. Che cosa... Da dove arrivi? Hai ucciso quella ragazza tu, bastardo? Che cosa... Ne avevo abbastanza... Ne avevo abbastanza di lei. Perché dovrebbe importarmi? Non so quanto abbia senso. No, nothing in all. Nel senso avrei voluto bicchiarlo, però avere tutto addosso a quel villaggio con io che ho già perso un terzo di vita non è il massimo. Puoi completare i compiti in modo diverso, scegli saggiamente perché tutte le decisioni avranno una conseguenza, quindi vabbè. Andiamo giù. Io lascio in pace i banditi e tornerò dopo a vindicarmi. Ci sono dei rati. Però il problema è che non abbiamo mana. Ok. Voglio dare da mangiare... Cioè, mangiare la mela. E la mela mi fa recuperare vita. Questa è carne secca, quindi si può mangiare. Non so se c'è qualcosa qua da lottare. Questa è la tizia che è caduta. Sareza, non ti ho salvato. Ok. Cioè, l'ho buttata giù proprio da lì. Oh, carino. Il mondo è carino. Non mi dispiace. Cioè, graficamente è un indie. Come l'ho già detto, non è sempre una giustificazione. Però credo che questo gioco, adesso non lo so con certezza, ma ci hanno lavorato davvero in pochi. E secondo me il risultato è interessante. L'unica cosa, il prezzo è un po' alto e volevo chiarire questa cosa perché ho visto che comunque qualcuno se ne è lamentato nelle discussioni di Steam dicendo lo sviluppatore, però non è completo e non lo hai detto. E lui ha detto, no, in realtà è una beta. Non avevo modo di far scrivere questa cosa. E il prezzo comunque non aumenterà a quello che hanno detto. Quindi c'è un ratto. Ti voglio capire cos'è questo. C'è del vino. Leggenda degli dei. È un libro. Va bene. Mettilo via. C'è una mela. Che adesso prendo e mangio subito. Monete. Vino economico. Monete. Monete. Acqua. Ok. Prendiamo la mela. Mangio una di carne secca. E una di pane. Ok. Pane da pochissimo. Poi ci sono degli spiriti. Vediamo. No, no, metti via, metti via. Mi chiedo perché tu stai cercando qui. Fantasmi ancora. Posso vedervi. Ah, ci vede davvero. Fantastico. Sicuramente puoi aiutarci. Cosa? Vuoi il mio aiuto? Non ho idea di che cosa stai parlando. Vabbè, saltiamo la conversation perché voglio andare a vedere come funziona. Queste sono le mie storie. Ho incontrato due fantasmi che sono Lawrence e Lola. Mi hanno detto che il nostro mondo si sta affacciando, diciamo, a una minaccia mortale. Dovrei considerare che fosse uno scherzo se loro fossero ancora vivi. Fantasmi hanno senso dell'umorismo? Vabbè. Andiamo avanti. Chiarifichiamo il significato del... Sulle parole del ragazzo morto. Hai rotto un antico sigillo con il tuo trasferimento qui, con la sfera, nel portale, nella montagna. C'è un male locale come risultato di questo. Quindi troviamo il mago, mostra lì la sfera e torna all'accademia. Sta parlando di un'invasione? No, ma se tu aspetti e moriremo entrambi. Vai dal mago, ok? Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Andiamo dal mago. Perché poi, come potrete vedere dalle immagini su Steam, noi ci occuperemo della ricostruzione dell'accademia, se non ricordo male. Quindi il gioco sembra anche abbastanza dinamico. Non è sicuramente per tutti. Guardando quanta gente si è lamentata del nuovo Ilex 2, non mi sento di dire... Prendetelo o che altro. Insomma, è un indie, quindi se siete qui perché siete alla ricerca di giochi indie, quindi qualcosa magari anche spesso di nicchia. Però, occhio insomma, sul della foresta, che sia qui il mago. No, ma abbiamo un wooden chest. Ah, ho bisogno di una chiave, ok. No, è brutta cosa che clicco e... e mi toglie l'arma. Young deer. Ha un cervo giovane, non mi interessa. Vabbè, questa è una log cabin. Vediamo una... Eh, vedete che poi si imballa ogni tanto. un pezzo di carne. E poi il bonfire, con cui si può andare a interagire e mettere... in... a cuocere qualcosa, interessante. Poi ci sarà il crafting, insomma, quindi... L'acqua è molto carina. L'acqua è fatta bene. Che riflessi, molto belli. C'è il villaggio qua. Eccoci arrivati. Poi, ovvio, non è per tutti. Sia per la tipologia di gioco, sia per la, magari... l'ignosità, che... beh... Ma soprattutto anche per la lingua. Poi, magari non è un gioco con... un milione di righe di testo, e quindi è traducibile. Quindi qualcuno, magari di appassionato, potrà... dedicarci, sì. Però... Battle Mode. Metti via la tua arma. Salve! Chi sei? Perché stai andando a Pedmond? Voglio parlare al mago del vostro villaggio. Mi fai passare? Non ci sono maghi nel villaggio, ovunque in altro posto, in Misty Valley. Ti suggerisco di andare. Hai detto che non ci sono maghi qui, ma mi è stato detto... Com'è possibile? Posso almeno stare qui per la notte? Ci sono molti banditi in questa valle, e... non ti ho mai visto prima. Puoi essere uno di loro. Perché dove hai fatto entrare il villaggio? Cosa ti fa pensare che io sia imbandito? Sembro un bandito? Sono un apprendista dell'Accademia. Ok, se vuoi provare che non sei in combutta con quei fuori legge, portami la testa del loro leader, Sorek. Devo portarvi la testa di un criminale? Non ho mai ucciso nessuno nella mia vita. Ah, non preoccuparti. È solo un test. Sorek è... l'anziano di Piedmont. Mentre Griton è il bandito. Ah, ok. Ora sono sicuro che... non sei. Ok. Mi farà entrare ora? Hai bisogno di essere paziente. Viviamo... paziente? Viviamo in un piccolo villaggio dove non... i fracanzisti non sono permessi. Ognuno lavora per i beni comuni. per provare che sei... non sei un mentitore. Ok. Ah, e non ve lo fa leggere bene perché va avanti da solo. Cosa bisogna fare? Nella foresta del sud c'è un uomo che sta cacciando... Ah, era a log di prima. Dov'è esattamente? A sud di qui. Da qualche parte. Mostrami una mappa e ti maccherò. No, no, mappe con me. Allora voglio vederti sopravvivere qui, no? Prendi la mia mappa altrimenti ti perdi. Ho segnato il posto. Ok, sarò indietro in breve. M per aprire la mappa. Ok, questa mappa invece ricorda quell'altro gioco di cui purtroppo però non ricordo... Ah, Outlaws? No. Ah, vabbè. Quello in pratica dove non c'è... c'era una mappa simile a questa ma senza il segnalino. Quindi dobbiamo andare là in fondo. e poi andare a vedere che cosa succede. Insomma, il gioco non è male. Non è sicuramente spazzatura, assolutamente, perché sembra proprio un bel gioco. Non è completo, quindi al momento non ha tutti i capitoli pronti per la storia. Quello che mi fa piacere è che non è un gioco magari come un Dragon Age dove ha tonnellate di testi e soprattutto i testi che ha come abbiamo visto da questo video sono comprensibili perché non li avevo mai letti ma li ho comunque capiti subito. Quindi se avete una conoscenza base come me d'inglese li potete comprendere tranquillamente. Intanto siamo arrivati, mi sa, al luogo dove c'è questo cacciatore che è là che sta combattendo contro il nulla. Quindi adesso ci avviciniamo come ultima cosa del video e vediamo che cosa sta succedendo. Ah no, sta combattendo contro il Young Wolf. Spero che non si capisca spero che non che altro mi sa che mi si è buggato perché abbiamo corso e non possiamo attaccare, ok. Aia. Perché nella parte destra in basso sono tutte le spell legate al combattimento. Mettila via metti via la tua arma, ok. Salve. Apprezzo il vostro aiuto. Insieme. Dai, arrivi da Piedmont. Sì, sono Diana. Sono qui in un campo non lontano da qui. Non sono molto brava, eh. Vengo da Tavia ordinato di riportarti al villaggio immediatamente. Così ti ho mandato mio padre. Ok. Non sarò in grado di convincere mai lui che non sono più un bambino, una bambina. Tornerò quando avrò abbastanza pelli di lupo. Digli questo. Ah, così sei la figlia di Tavia. ora capisco perché mi ha mandato ok. Praticamente vabbè, gli spieghiamo che recuperiamo le pelli e poi torniamo là. Ok, prendiamo tre pelli di lupo. Quindi open il lupo. Prendiamo una pelle e poi ne uccidiamo oltre di due e torniamo su da lui. Questa è la prima quest. Ragazzi, il gioco sembra essere davvero molto interessante, questo Spell Master The Saga. Ovviamente tenete sempre a mente che non è completo, arriveranno gli aggiornamenti prossimamente che porteranno tutti i capitoli della storia e questo è un po' discutibile il fatto che non sia segnato come un early access. Fatemi sapere che cosa ne pensate, però il prezzo è già quello finale, dovrebbe essere 20,99€. Non è poco, senz'altro. Se siete appassionati di questo genere, se cercate un qualcosa che comunque si discosta dei generi attuali che risultano essere magari troppo facili o con poche features di tipo crafting, di tipo skill, può essere una bella soluzione. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video in play. Alla prossima ragazzi e ciao ciao. Ciao.